Nuovi assalti notturni di terra contro Gaza sarebbero le fasi preparative dell'invasione dell'esercito israeliano. Necessaria una pausa umanitaria a Gaza. Si conclude in extremis il Consiglio europeo con una dichiarazione congiunta. I leader chiedono accesso continuo alla striscia. Lo spazio Schengen non esiste più. Il presidente romeno critica la decisione dell'Austria di bloccare l'adesione del paese all'unione doganale. E ancora caccia all'uomo nel Maine, Stati Uniti, dove il killer del bullying, ex militare, è riuscito a deludere i rastrellamenti della polizia. Israele ammette che le sue forze, sostenute da aerei caccia e droni, hanno effettuato una nuova incursione di terra nella striscia di Gaza. L'azione puntava a presunte posizioni di Hamas, alla periferia di Gaza City. Le forze sono uscite dall'area al termine dell'operazione senza accusare perdite. In questo modo avrebbero preparato il campo di battaglia in vista dell'invasione di terra tanto sbandierata. La guerra tra Israele e Hamas, giunta venerdì al ventunesimo giorno, è iniziata dopo che i militanti di Hamas, provenienti alla striscia di Gaza, hanno violato il muro di separazione altamente fortificato il 7 ottobre. L'attacco di Hamas ha avuto come obiettivi le comunità di confine. Israele ha lanciato attacchi aerei su Gaza e l'ha sostanzialmente privata di cibo, carburante ed altri rifornimenti, come rappresaglia per la sanguinosa incursione subita. A Tel Aviv un altro evento dedicato alle vittime e agli ostaggi in mano da Hamas è stato interrotto da un allarme missilistico con tanto di razzo intercettato con successo sulla città. Il portavoce delle forze armate con la stella di David ha detto che l'esercito israeliano continuerà nei suoi limitati raid via terra a Gaza, con ancora maggior forza nei prossimi giorni, pur mantenendo massicci attacchi aerei sugli obiettivi di Hamas. La cosa più sorprendente è la quantità di ubrini che hanno portato in Israele. Gli israeliani sostengono che circa il 20% delle armi usate da Hamas provengono dall'Iran e dalla Corea del Nord. Si parla di mine terrestri, granate anticarro, droni, il restante 80%, compresi i razzi, destinati a colpire il territorio israeliano, sono stati fatti in casa a Gaza. Scatta la mobilitazione internazionale dei parenti degli ostaggi israeliani catturati da Hamas. Molti hanno la doppia nazionalità e i loro parenti sollecitano i governi di tutto il mondo affinché si muovano per ottenere la liberazione. A Madrid si sono incontrati con il ministro degli esteri e hanno tenuto una conferenza stampa. L'attacco di Hamas del 7 ottobre ha provocato la morte di circa 1.400 persone e il rapimento di oltre 200. Altri parenti di ostaggi sono andati a Bruxelles per implorare l'aiuto dall'Unione Europea. Incontri simili si sono ottenuti in diversi paesi. Secondo Hamas, 50 ostaggi sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani degli ultimi giorni. Si è concluso in extremis con una dichiarazione congiunta sul Medio Oriente la prima giornata del Consiglio Europeo. I leader hanno chiesto una pausa umanitaria e un accesso continuo, rapido e sicuro a Gaza per permettere l'assistenza alle persone vittime della guerra. Il testo ribadisce il diritto di Israele a difendersi, ma il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha affermato che un assedio totale a Gaza non è consentito dal diritto internazionale. Un assedio totale non è in line con l'assistenza internazionale, e lo confirmo. Il principio dell'assistenza internazionale, un assedio totale non è in line con l'assistenza internazionale. Molti leader hanno chiesto questo tema del assedio, ma c'è una cosa molto clara, c'è una storia di deteriorazione della situazione umanitaria in Gaza, e per questo credo che l'EU dovrebbe fare tutto che è possibile per aiutare a risolvere questa questione del accesso umanitario. L'Unione Europea si è impegnata a organizzare una conferenza di pace per riavviare i discorsi su una soluzione a due stati. È un compromesso con la Spagna, supportata dall'Irlanda, che chiede da giorni un cessate il fuoco. Ursula von der Leyen ha ringraziato i paesi della regione che hanno fatto pressioni su Hamas per il rilascio degli ostaggi. Il leader hanno anche discusso una revisione del bilancio dell'Unione Europea. Si è parlato della possibilità di aumentarlo per destinare più fondi ai disastri provocati dal cambiamento climatico, alle migrazioni e all'Ucraina. Lo spazio Schengen non funziona più e quasi non esiste più. Queste le parole del presidente romeno Klaus Ioannis in risposta alle posizioni dell'Austria che fa opposizione all'ingresso di Bulgaria e Romania nell'Unione Doganale. Nonostante ciò Ioannis conferma che il suo paese cercherà di aderire alla Convenzione. L'Austria dice di non avere nulla contro i paesi ma sostiene la necessità di una revisione del trattato. Negli ultimi giorni con l'inasperirsi della crisi in Medio Oriente, paesi come la Slovenia e l'Italia hanno annunciato che rafforzeranno i controlli doganali. Pesanti accuse incrociata all'Assemblea Generale dell'ONU riunitasi in sessione straordinaria per discutere una risoluzione presentata dai paesi arabi che chiede un cessate il fuoco immediato e l'accesso umanitario senza ostacoli nella striscia di Gaza. Il testo arriva dopo il fallimento di altre due bozze di risoluzione presentate mercoledì al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L'ambasciatore israeliano ha respinto la risoluzione e ha nuovamente attaccato l'ONU che ha descritto come un'organizzazione rotta e moralmente corrotta. Un discorso amaro per l'ONU che a causa di bombardamenti israeliani ha già perso 39 dei suoi operatori, che appartenevano tutti all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Durante un vertice sulla sicurezza euroasiatica in Bielorussia, il ministro degli esteri ungherese ha affermato che il suo paese continuerà a collaborare con la Russia sulle questioni energetiche, nonostante le mosse dell'Unione Europea per porre fine alla sua dipendenza dal petrolio e dal gas russo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.